pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati chi è il vero re che stile ha entriamo con queste domande nella solennità di cristo re dell'universo sembrano domande lontane poco concrete eppure sono decisive c'è in gioco l'immagine che abbiamo di dio e di noi stessi la nostra e l'altrui felicità prima di capire il perché partiamo da una domanda che cosa significa celebrare cristo re dell'universo che l'universo ha un re e lui l'inizio e il fine di tutto e lui che governa la storia questo ci ricorda che il creato non è frutto del caso che la storia non è in balia del caos o di forze magiche o di poteri ineluttabili che il male non avrà l'ultima parola ma una provvidenza amorevole guida la storia e la nostra storia verso il suo compimento verso la piena redenzione e tanto più lasciamo regnare cristo in noi e attraverso di noi nel mondo tanto più la vita risplende di senso e di bellezza un salmo dice alla tua luce vediamo la luce una cosa è un paesaggio di notte senza stelle altro quando sorge il sole una cosa è la vita senza cristo ben altra è la vita vissuta nella sua signoria non solo la solennità di cristo re dell'universo è stata istituita da pio undicesimo in un periodo particolare siamo nel 1925 quando si facevano largo regimi totalitari quali il fascismo il nazismo lo stalinismo che regalità hanno proposto che potere hanno esercitato un potere solitamente concentrato nelle mani di uno che in nome della propria verità è pronto a debellare in un modo o in un altro gli oppositori dunque un potere politico dispotico oppressivo violento impositivo ecco la chiesa con questa solennità ci ha voluto ricordare chi è il vero re come agisce e di conseguenza come seguirlo andiamo ora al vangelo gesù è stato arrestato nel gezzemani legato insultato accusato condotto dinanzi alle autorità di gerusalemme è stato processato in modo ingiusto e poi la mattina della pasqua giudaica viene presentato al procuratore romano ponzio pilato con la generica accusa di essere un malfattore notiamo si entra in una lotta di potere i giudei sottomessi ai romani vogliono che i romani mettano a morte gesù pilato che vuole evitare disordini non vuole entrare in questo tipo di lotta e inizia di interrogare gesù sei tu il re dei giudei cerca subito di capire se è un problema di potere cioè se gesù mira a ristabilire il regno di israele secondo alcune attese messianiche rovesciando il potere romano ma è anche una domanda che contiene una certa eronia tu saresti re dei giudei tu combinato così gesù pone una controdomanda da buon ebreo questa cosa te l'ha detta qualcuno su di me o la dici da te è come se gli dicesse da dove ti è venuta questa idea dove l'hai presa in effetti nessuno ha presentato gesù a pilato con l'accusa di farsi re gesù sta invitando pilato a guardarsi nel cuore ne interpella la coscienza pilato cerca subito di tagliare corto ma sono forse giudeo i capi del popolo e la tua gente ti ha consegnato a me che cosa hai fatto ecco pilato cerca di capire cosa gesù abbia fatto dato che neanche giudei gliel'hanno detto i romani erano attenti alla giustizia che tutto sommato funzionava abbastanza bene a questo punto gesù sposta su un altro piano la risposta se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto ma il mio regno non è di qua giù il mio regno non è da qua giù cioè non ha origine dal mondo non ne segue le logiche non è un regno che si instaura con la violenza non ha soldati pronti alla guerra non è uno tra i poteri del mondo in concorrenza tra loro è portatore di vita non di morte di pace e di giustizia è un regno che si rende presente nel mondo ma non funziona secondo la logica del mondo dunque tu sei re chiede pilato e gesù tu lo dici io sono re come a dire vedi ci sei arrivato e continua per questo sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità e chiunque dalla verità ascolta la mia voce gesù stesso è la verità è lui che rivela la verità su dio e sull'uomo è lui che ci rivela l'amore che dio ha per ciascuno di noi è lui che ci rivela che l'uomo è chiamato ad essere vivere da figlio di dio e gesù testimonia la verità che non è qualcosa di astratto di concettuale è la vita vissuta in conformità alla volontà di dio la vita di un uomo che si dona amando sino alla fine obbedendo al padre sino alla fine verità che si rende manifesta dalle sue parole e dalle sue opere fateci caso pilato è il primo che sta ascoltando gesù e arriva a cogliere qualcosa di gesù tant'è che lo riconoscerà innocente e sulla croce lo proclamerà in un certo modo re facendo apporre la scritta nelle tre lingue gesù nazareno re dei giudei come a dire che tutti veniamo dalla verità e siamo fatti per la verità dio ha scritto la verità nel cuore di ciascuno il punto è avere il coraggio di ascoltarla ora da questo testo cosa possiamo cogliere vi ricordate le nostre due domande chi è il vero re come agisce come funziona il suo regno prendiamo due punti primo il suo modo di agire di regnare non gira secondo la logica del mondo fatto di un potere che dà morte un potere che schiaccia che opprime il suo è il potere dell'amore della vita che si dona a servizio della vita l'amore non è violento non fa alcun male al prossimo direbbe san paolo quante volte purtroppo la violenza si fa strada nella nostra vita nei nostri cuori nelle nostre parole per orgoglio feriamo per paura trafiggiamo per risolvere i conflitti battiamo i pugni non lavoriamo sulla nostra irascibilità seminando paura dio è onnipotente nell'amore ama interpella la libertà ma non violenta delicatamente spinge al bene ma non costringe si espone anche al rifiuto senza mai smettere di amare questo ci fa interrogare sul nostro modo di esercitare il potere parola alla quale rischiamo di dare solo un'accezione negativa ma che di per sé significa facoltà di fare possibilità di agire ognuno di noi è chiamato ad esercitare un potere sugli altri ad esempio il genitore nei confronti del figlio il titolare nei confronti dei dipendenti il medico sui pazienti il parroco o il superiore di una comunità religiosa nei confronti della comunità insomma tutti siamo chiamati ad esercitare un potere cioè ad agire per il bene degli altri il punto è come esercitiamo il nostro potere perché anche nella chiesa purtroppo possiamo esercitarlo male esercitare un potere che asserve non che serve e dunque ecco famiglie che magari frequentano anche le chiese dove regna una pace apparente frutto della paura delle esplosioni del vulcano di turno oppure parrocchio comunità religiose dove non regna uno spirito familiare evangelico ma dittatoriale mondano e così via ecco come esercito il potere che dio mi ha affidato come esercito il servizio il ministero il compito che mi ha consegnato secondo cristo viene a testimoniare la verità si tratta della verità divina che in definitiva il messaggio essenziale del vangelo che dio è amore ecco la verità non si impone la verità si testimonia la verità non ha bisogno di essere imposta ha bisogno di essere esposta manifestata testimoniata un cristiano non ha bisogno di imporre la verità semmai chiede a dio la grazia di testimoniarla anche quando costa mi viene in mente la testimonianza bellissima del sacerdote titus bransma 26 luglio 1942 a dachau nel tristemente noto campo di concentramento una giovane infermiera si avvicina al sacerdote per ucciderlo con una iniezione di veleno come ordinato dalle autorità del campo il sacerdote ha poi raccontato la giovane pentita non mostrò il minimo odio nei miei confronti con disarmante mitezza disse povera ragazza io pregherò per te e mi diede la sua corona del rosario io risposi che non ero capace di pregare quindi non mi serviva egli mi disse anche se non sai pregare di almeno la seconda parte dell'ave maria ripeti spesso prega per noi peccatori se preghi ti salverai allora io risi oggi invece piango e trovo fiducia solo pensando al perdono di quel condannato questo sacerdote ha testimoniato la verità con il dono della sua vita amando sino alla fine e quella verità a suo tempo ha illuminato anche il cuore di questa infermiera in conclusione cari fratelli e sorelle facciamo nostre le parole di papa francesco il regno di dio è fondato sul suo amore si radica nei cuori conferendo a chi lo accoglie pace libertà e pienezza di vita tutti noi le vogliamo ma come si fa lascia che l'amore di dio il regno di dio l'amore di gesù si radichi nel tuo cuore e avrai pace avrai libertà avrai pienezza gesù oggi ci chiede di lasciare che lui diventi il nostro re che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti